Il terzo numero di riscontri di vista di cultura e di attualità è l'editore del Terebinto, il dottor Ettore Barra, un consultivo positivo dopo la pubblicazione. Sì, il nuovo numero di riscontri, come sempre, presenta ai lettori un indice ricco di contenuti. Abbiamo un articolo su Moravia, uno su Volpi, uno sul romanziere siciliano D'Arrigo. In questo numero, come sempre, c'è anche il mio editoriale, che questa volta è dedicato al merito, alla polemica che di recente è tornata in voga, quella dei voti scolastici, della meritocrazia. E' un editoriale in cui sono trovato ad andare oltre le solite schermaglie tra destra e sinistra e capire se effettivamente il merito è qualcosa che va previato e incentivato, oppure se, come dicono alcuni, il merito, l'impegno sono poca cosa rispetto al ruolo che ha la fortuna nella vita dell'uomo.